La mia storia parla della volta in cui cambiai società sportiva. Ero passato alla società della parrocchia dove conoscevo tutti i miei amici e un giorno ho deciso di cambiare società per poter imparare più cose, per migliorare le mie capacità insieme a mio cugino. Lì non conoscevo nessuno e mio cugino era un portiere e quindi non si allenava con noi. Io che ero timido non riuscivo ad integrarmi con gli altri e cercavo di giocare il meglio possibile per fargli capire quanto valevo. E quando feci il mio primo gol tutti mi vennero ad abbracciare e così capì che saremmo diventati grandi amici. Grazie a tutti.